Italinia predstavliet di ambienti raffinati rispecchiando l'emblema della qualità made in Italy Quest'anno Club Design al cinquantesimo salone di Milano presenta il tavolo Isacco che è un tavolo dal design particolare costruito con un top in metallo con una finitura che rende il top molto piacevole al tatto e che caratterizza molto il tavolo sono queste quattro gambe fatte da legno di recupero Quando abbiamo pensato a questo tavolo abbiamo pensato a un tavolo che andasse bene per quelle case sia metropolitane che le case di campagna La dimensione del tavolo che qui vedete è di 2,60 m per 120 cm di larghezza è un tavolo che però costruiamo in altre tre dimensioni inoltre una caratteristica della nostra azienda che possiamo fare lo stesso costruito appositamente per il cliente sempre se le caratteristiche tecniche chiaramente ce lo permettono Se vogliamo vedere è un tavolo ecologico perché è fatto con materiali naturali e materiali di recupero quali le gambe La sedia che abbiamo immaginato per il nostro tavolo di sacco la sedia su cui sono seduto è la sedia Eva che ha uno stampato che noi ricopriamo con della pelle in pieno fiore Le gambe della sedia sono fatte di legno in questo caso un rovere un rovere tinto nero a poro aperto Lo scrittoio Tiberio presentato al salone in finitura Evano Macassar con due cassettini in pelle Particolare del nostro scrittoio Tiberio è la base composta da due gambe asimmetriche fatte in legno massello presentata in rovere tinto moro Lo scrittoio Tiberio una volta chiuso può essere utilizzato benissimo come console e le finiture che possiamo avere su questo scrittoio Grazie a tutti